Ci siamo presi cura dei vostri film, li abbiamo amati, li abbiamo dato un suono limpido, sul set abbiamo catturato il suono di presa diretta, li abbiamo colorati, li abbiamo doppiati, li abbiamo audio descritti, per voi abbiamo creato sorprendenti effetti speciali, li abbiamo sincronizzati, abbiamo riso e pianto con loro, ma per farlo ancora, adesso, dobbiamo stare a casa, proteggerci e proteggerli, e presto torneremo ad amare, torneremo a ridere, a piangere e a sognare con loro, perché noi come voi, il cinema lo amiamo, e sarà ancora più emozionante di prima. Sud Sound Studios, una passione che non finisce mai.